Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della fantastica ModCraft Nello scorso episodio abbiamo creato il rituale per Cthulhu, ovvero uno dei boss degli abissi E... oh mio dio, aspetta un attimo, e tu da dove cavolo esci fuori? No, 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 via, non vogliamo problemi qua, per favore, puoi andare via? Perché non riesco a uccidere? Ok, meno male, e questo? Ah, è un ala di drago? Allora, non ho ancora caricato il video, quindi non ho letto i vostri commenti, non so che cosa mi avete detto Perché sto registrando subito dopo, comunque questo qua è l'altare che abbiamo creato Servono tutti questi oggetti mesi qua, e poi al centro dobbiamo mettere un corallo Che a quanto pare si chiama il corallo... dov'è, dov'è, dov'è? La perla di corallo, eccola E si trova semplicemente con questo blocco Cioè io devo tenere questo blocco, poi metterlo in una fornace e trovo la perla Questo blocco è il Corallium Infused Stone Io sono abbastanza sicuro, ragazzi, che questo blocco si trovi qua sotto Perché ne ho già visti tanti, quindi facciamo così Scaviamo dei chunk Ok, siamo abbastanza lontani da... Oh, no, 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 il libro della morte non lo devo di certo perdere Dicevo, siamo abbastanza lontani da là, fantastico E adesso cerchiamo di trovare quel blocco Perché io l'ho già visto in passato, ne sono sicuro al 100% L'ho già scavato altre volte Diciamo così Vediamo se riusciamo a trovarlo qua in giro Eh, ci sono tanti, tanti minerali e tanti materiali nella ModCraft Quindi sarà difficile trovare proprio quello E siccome io molto spesso non vedo le cose Probabilmente non riusciremo neanche a vederlo Magari ce l'ho sotto gli occhi e non l'ho neanche visto Non lo so Vedremo Proviamo ad andare da questa parte Vediamo un po' Allora, quale caverne continuo, no? Io continuo fin quando non lo trovo, ragazzi Eh, prima o poi devo trovarlo Ehm, ok C'è un guardiano dei diamanti Non c'entra nulla Niente, niente, niente Qua Oh, trovato Ok, dovrebbe essere questo Bene, cosa mi ha dato? Mi ha dato i coralli un gem Quindi mi ha dato le gemme Ok Le gemme mi servono per creare l'infused stone Quindi mi serve della pietra Di quante gemme ho bisogno? Eh, dovrebbero essere abbastanza Ok, ok, ok Credo sia arrivato il momento di risalire in superficie Allora, il mio altare Se non sbaglio Eccolo, è lì In questo bioma, tra l'altro Si trovano dei mostri Che ti droppano queste qua Le shadow gemme Queste ci servono Le ho trovate prima Perché proprio le statuine l'hanno evocato Allora, buttiamo quel che non ci serve Quindi tutta questa roba può anche andare via Il brumble pure Questo mi potrebbe servire Via Ok E via Quindi cerchiamo di capire Cosa devo fare? Devo fare così? Ok E basta? Ne serve uno solo? Fammi vedere Corallium gem cluster Perfetto Molto bene Adesso prendiamo della stone Della pietra normalissima Eccola qua E facciamo così Perché non ha funzionato? Ah, ho capito Ok, aspetta Devo fare così Devo craftare tanti di questi Un altro Ok Ora con questi faccio così Ok E questo dovrebbe essere quello giusto Quindi adesso metto la pietra attorno Bene Ecco l'infused stone Fantastico Ora ci serve soltanto una fornace Vabbè, facilissimo Prendiamo fornace Ok Va bene Prendo 64 ragazzi Perché è più comodo Mettiamo questo qua Mettiamo questo a bruciare E in questo modo dovremmo riuscire ad ottenere La perla Che ci serve Eccola qua Corallium perle Ora Diamo un'occhiata un attimo al rituale Per farlo serve la perla al centro E 300 punti esperienza Wow Successo qualcosa No Ok 300 punti esperienza nel libro Io ne ho la bellezza di 3500 3050 Perfetto Quindi Prendiamo la perla Adesso la posizioniamo qua al centro Molto bene E adesso Credo di dover cliccare con questo No Cosa devo fare adesso? Fammi vedere Oh Ecco Mio Dio Cosa sta succedendo? Cos'è sta voce? Ok Ha funzionato ragazzi Bene Quindi proviamo a craftarne intanto uno Questo c'ha ben 10 utilizzi Se non sbaglio Eccolo qua Si è consumato 9 su 10 Però abbiamo già una shard Facciamo così Questo zainetto adesso In questo zainetto adesso ci mettiamo soltanto le cose che ci servono Quindi mettiamo queste robe qui Questo qui Questo ci serve sicuramente Il libro lo possiamo anche tenere Tutto il resto si può buttare Quindi per craftare questa chiave Delle dimensioni del portale Abbiamo bisogno di altre due perle di corallium Facilissimo Si possono ottenere senza alcun problema E dell'oblivion catalyst L'oblivion catalyst però Si deve fare appunto con un rituale Con un ender eye al centro Due di redstone Anzi quattro di redstone E poi quattro shard of oblivion E mi servono 5000 punti esperienza Io quanti punti esperienza ho adesso? Dovrei averne quasi 5000 mi sa 3600 Ok non ci mettiamo molto a farle Quel che dobbiamo fare adesso È andare alla ricerca Delle shadow beast Quindi le bestie Della notte Le bestie delle ombre Che dovrebbero trovarsi Qua nelle vicinanze tecnicamente Eccoli Sono loro Ok beh Voi non mi fate assolutamente paura Io tra l'altro ne ho combattuti tanti di loro Prima ancora Di sapere a che cosa servissero Effettivamente Ok Tutti morti Mi hanno dato delle gemme 6 shadow Ok Mi hanno dato ben 6 Quindi prendiamo la transmutation Facciamo di nuovo un altro di questi Così possiamo ottenere un'altra shard of oblivion Ce ne servono altre 2 Altre 2 di queste Dopodiché potremo creare finalmente La chiave interdimensionale Per fortuna questi biomi Sono veramente veramente grandi Quindi dovremmo riuscire Eccone altri Morto Morto E morto Mi hanno dato le gemme? Una soltanto? Che spilorci però Potevano darmene qualcun'altra Allora Secondo me Ce n'è qualcuno Quassù E infatti Avevo ragione Oh Questa però era una creatura Non era Una bestia Quindi mi ha dato soltanto Dei frammenti piccolini Ok Ne abbiamo altre 4 Fantastico Quindi Riapriamo questo Ok Ce ne serve soltanto Altre 4 Altre 4 gemme E possiamo fare l'ultima shard Bene 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 Sta procedendo tutto quanto Secondo i piani Teniamo il libro qua Nelle vicinanze Perché ci potrebbe aiutare Vediamo Ne vedete qualcun altro voi ragazzi? Allora Di giorno Non spuntano Quindi sono creature Eccole Sono creature che spuntano Soltanto di notte Lo zombie Mi da qualcosa? Ehm No Però Teniamo comunque Quello che mi ha droppato Perché non si sa mai Potrebbe servire Ecco qua Delle altre bestie Morite Ok Mi hanno dato 3 gemme Dovrei essere in grado Di craftare Un altro Un altro coso Con 3 gemme Aspetta Perché io c'ho C'ho questi Quindi se così qua Ora li trasformo Vediamo Facciamo così Ok Iniziamo a posizionare Tutto ciò che abbiamo Quindi Lender eye Qua al centro Ora prendiamo le shards In che posizione Si devono mettere Ok Le red sono in alto E a destra e a sinistra Quindi uno qua Uno qua Uno qua E uno qua E le shards E le shards Invece qua Nei lati Mi servono 5000 Di energia E devo fare Un sacrificio animale Devo sacrificare Qualche animaletto Oh mio dio Eh Mi dispiace un po' Però devo farlo Per andare avanti Non ci posso fare nulla Quindi prendiamo Una cordicella Ok Il libro è arrivato A 5000 Di energia Quasi Siamo a 4200 Di energia Non male Devo riuscire a creare L'oblivion catalyst Questi oggetti Invece Che vedete Con dei nomi strani Hanno questi nomi Perché ancora Non sono stati decifrati Quindi non ho ancora Sbloccato il rituale Per andare avanti Con quegli oggetti Visto Tutti questi rituali Sono bloccati Perché non ho ancora La conoscenza Allora Siamo arrivati a 5000 Quasi 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 Maialino Mi dispiace Ma io devo fare Un sacrificio Sono finalmente Calate le tenebre Il maialino è pronto In posizione Ho le due perle E abbiamo 5000 Punti esperienza Non devo far altro che Compiere questo sacrificio Maialino mi dispiace Dopodichè Attivare Il rituale Che non sta funzionando Bene Perché Ho sbagliato Col sacrificio Va bene Allora ci riprovo Non è un problema Dai Andiamo Vieni Forse deve essere ancora in vita Oh eccolo Ho fatto il sacrificio Ho fatto il sacrificio Dai 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 Ti prego Dammi L'oblivion Catalyst Eccolo L'abbiamo ottenuto Ragazzi L'oggetto Proibito Mamma mia Con il nome rosso Fa paurissima Ok Ci servono soltanto Delle blaze road Adesso Quindi Uno e due Perfetto E non dobbiamo Far altro che Craftare La nostra chiave Interdimensionale Eccola qua Gateway key Cliccando per terra Con questa Creeremo Un portale Delle dimensioni Ed eccolo qua Beh ragazzi Io vi invito a lasciare Un mi piace a questo video Perché molto presto Entreremo Nella nuova dimensione Dictulu Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao